Grazie a tutti! Per questo motivo ho già ottenuto l'ok da parte di alcuni miei amici sponsor, tra cui ricordo il ristorante La Saraghina Pazza di Omar Zanfanti, l'Outlet dell'Ombrellone, la Cooperativa Bagnini, Comitato Progustino per la Luna. No! Arrivo fino... Roger! Roger, sono a Milano! Arrivo fino qui! Sì, però adesso non posso parlare, ti devo salutare. Ciao caro, ciao, ciao, ciao! Faccio il preside e sono anche docente in una scuola da me fondata in cui si insegnano le basi per diventare dei veri bagnini e se mi prendete io posso dare delle lezioni di bagninaggio a tutta l'Italia a gratis, visto che comunque c'è della piscina in casa. A tal proposito voglio farvi vedere cosa insegno dentro questa scuola con la teoria che sta alla base della scuola, la teoria delle tre P, la presa della ciambella che viene portata a sé, il portamento della ciambella, tipo di scopolo di mirone che noi chiamiamo di riccione e il puntamento e posizionamento della ciambella. Una regola fondamentale applicata a qualsiasi tipo di argomento e o materia. Tu come hobby? Ah sì, faccio la collezione di fischietti d'epoca, mi fregge di averne uno addirittura appartenuto all'imperatore Tiberio di Rimini, quello del ponte, e ogni estate organizzo la sagra del fischietto a cui partecipano i più grandi bagnini d'Italia ma anche esteri. Poi sono detentore della Coppa Miglioro Salvataggio, anno 90-91 e poi mi piace tanto, ma proprio da morire il nuoto, sì, e per questo motivo mi piacerebbe poter diventare il nuovo allenatore di Federica Pellegrini e anche di Filippo Magnini, che comunque per i risultati che c'hanno ultimamente posso benissimo farlo anche. Ah, basta così. Grazie. E come sono andato? Mi fate sapere. Va bene, buona giornata, grazie, grazie. Ah, scusate, ma per i provini di X Factor? Ah, di là. Grazie, sono onorato di essere stato qua. Saluto a tutti. Tu sei la mia simpatia, simpatia.